Quale tipo di segnale da questo incontro potrebbe essere colto in qualche modo se c'è da Conte come un possibile punto di incontro, come un passo in avanti in direzione delle richieste dei 5 Stelle? Intanto buongiorno a tutti, anche da parte mia, ma sicuramente l'incontro con i sindacati è un incontro fondamentale e importante per dare delle risposte oggi essenziali per tutti i nostri lavoratori in modo particolare l'aumento dei salari che è dovuto all'aumento dei prezzi, se si va al supermercato c'è un aumento di tutte le materie prime del 20-30%, oltre all'inflazione dell'8% e credo che questo sia uno degli aspetti fondamentali di un percorso che oltre al problema dei 5 Stelle di Conte è un problema degli italiani, di tutti noi e credo che questo sia una delle considerazioni più importanti, legato poi all'altro aspetto che è quello del cuneo fiscale dove chiaramente il costo del lavoro è un altro dei problemi importanti che abbiamo qui in Italia che da tanti anni non è stato ancora oggi risolto. Io credo che tutto questo sia un primo passaggio fondamentale per dare risposte importanti ma è altrettanto fondamentale, però l'aspetto che ci tengo a sottolineare è che chi governa deve prendersi delle responsabilità, tante volte le responsabilità non sono così bene accette in un primo momento dai cittadini, da tutti noi, quindi se servono dei sacrifici, dei momenti importanti per raggiungere degli obiettivi bisogna farli, chi scappa nel momento in cui si devono fare le cose sicuramente non sta pensando al bene dei nostri cittadini e credo che questo sia uno degli aspetti fondamentali. Noi abbiamo di fronte un post pandemia, almeno speriamo che sia questo, del Covid dove dobbiamo riprendere, abbiamo il PNRR da mettere a terra e che significa da far sì che le opere e le risorse vengono utilizzate nel migliore dei modi. C'è un grande lavoro anche in casa centrodestra, allora le chiedo per l'ipotesi di un centrodestra allargato, c'è il progetto di Toti, il progetto di Italia al centro perché dice questo centro non può essere un centrino, invece ci sono altri come Calenda che dice invece questo centro non può essere un fritto misto, voi quali ipotesi di centrodestra vedete? Io credo che oggi l'area di centro del centrodestra sia un aspetto culturale e valoriale, noi siamo convinti che oggi la maggioranza del nostro paese ha questa idea, bisogna solo trovare le modalità e le forme di un progetto sui temi concreti, la gente ha bisogno di vedere che siamo vicini e in mezzo a loro, non si può fare solo una politica urlata, una politica di piazza, ma bisogna ritornare alla politica quella che va sui temi concreti, oggi purtroppo a settembre, l'abbiamo detto più volte, settembre-ottobre ci sarà un grande momento di crisi, aumento dei prezzi, la problematica del gas, vediamo tutto quello che viene, migliaia di aziende che purtroppo sono in difficoltà ad esempio con le problematiche del super bonus del 110 che dobbiamo risolvere e quindi dobbiamo fare una politica concreta, seria in mezzo e tra la gente, questi sono i valori, i principi che noi vogliamo fare per il centro-destra e credo che questo sia quello che ci chiedono oggi più che mai gli italiani e su questo stiamo lavorando per ridare forza e credibilità a un centro-destra che oggi ha bisogno di quest'area per poter raggiungere l'obiettivo che nel 2023 sia governo di questo paese. Sullo Iusso Scole ci sono voci diverse, allora resto da lei, Depoli perché in qualche modo voi come forza con radici cristiane su questo lei ha detto beh non possiamo semplicemente liquidare questo tema come un tema che non è prioritario, che non è di stretta attualità in qualche modo per quanto riguarda le esigenze dettate dalla crisi economica, ma allora voi come la vedete e secondo lei quei correttivi che Forza Italia propone, completare un ciclo di studi di 8 anni piuttosto che di 5, sono correttivi a cui si può andare incontro e che dovrebbero essere accolti oppure in ogni caso è necessario riformare quanto prima la legge sulla cittadinanza. Io credo che oggi ci possono essere dei correttivi importanti che possono essere messi in campo tipo quello degli 8 anni rispetto ai 5 e tutta una serie di altri correttivi importanti, però riformare nella sua completezza anche come raggiungere l'obiettivo della cittadinanza credo che sia un modo serio e concreto per prendere in mano la situazione, perché se no corriamo il rischio di mettere sempre tutta una serie di pezze, di situazioni, di cambiamenti che poi abbiamo una legislazione talmente che continua ad essere complessa che alla fine invece di fare una cosa ne viene fuori un'altra, quindi una rivisitazione seria e concreta di come effettivamente si può avere la cittadinanza credo che sia un modo veramente importante, ma anche lo ribadisco serio per prendere in mano la situazione, perché noi continuiamo a fare modifiche su modifiche e poi abbiamo una legislazione che vediamo che non riusciamo a venirne fuori.